Ieri ho chiesto ufficialmente, via raccomandata, di avere tutta la documentazione relativa ai contratti del personale, ovviamente non tutto il personale del Ministero, ma il personale quello particolare del Ministro Zanonato. Vogliamo sapere cosa serve a questo ufficio. Inizialmente il Ministro ha detto che non c'era nessun ufficio distaccato, poi in questi giorni è cambiato versione dicendo che tutti quanti i ministri hanno degli uffici distaccati presso il territorio. Ha fatto riferimento per esempio anche al passato al Ministro Maroni, dicendo che presso la Prefettura di Milano c'era un ufficio distaccato del Ministero. Ricordiamo a Zanonato, essendo lui Ministro dello Sviluppo Economico, che il Ministro Maroni era Ministro dell'Interno e i prefetti e le prefetture dipendevano direttamente, tanto che è lo stesso Ministro che fa le nomine dei prefetti. Quindi figuriamoci, il Ministro dell'Interno può usutilizzare tutti quanti gli uffici delle prefetture d'Italia. Quello che non può fare assolutamente il Ministro Zanonato. Potrei lanciare anche così quasi una sfida dicendo che se la Prefettura di Padova concede a un rappresentante del popolo come Zanonato un ufficio in prefettura, allora perché anche noi parlamentari per incontrare i cittadini magari a Padova non possiamo avere a disposizione gratuitamente un ufficio?